Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di un nuovo morsetto che ho realizzato e ha delle caratteristiche particolari nel senso che è molto semplice da realizzare. Per di più ho messo i piani dei disegni che vi potete scaricare tranquillamente guardando il link che sta nella descrizione. Questo morsetto è molto semplice da realizzare, molto versatile e ha una bella tenuta. In pratica è realizzato in questa maniera con una parte centrale se muovente, le altre praticamente fisse e tenute da queste due grosse viti. Niente particolare, sono due piastre debidamente sagomate tagliate, forate e unite. Tutto qua. Niente di più semplice. Adesso vediamo nel dettaglio come funziona e poi vedete le varie fasi di costruzione. Ok. Allora, ovviamente possiamo mettere in tenuta oggetti dai più piccoli ai più grandi. Una madre vita o un bel bullone del 10 ne garantisce veramente una tenuta molto molto forte. Possiamo fare vedere la facilità con cui possiamo gestire questa roba che non si muove. Viene ben ancorato. Una cosa ancora più grande. ok. Perfetto. Come potete vedere il risultato è ottimo e ve lo consiglio perché è estremamente versatile. Ci ho messo tre ore, quattro ore di lavoro, ma niente di più semplice. E se volete potete scaricarvi, come ho detto prima, i disegni, i file DXF, l'intero progetto con cui avete tutte le misure e se vi è piaciuto mettete un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi. Ciao. Ciao. Perfetto. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti.